Ragazzi, salve a tutti, benvenuti a Yami Hardway, finalmente apro anche io la collezione leggendaria Edizione 25esimo anniversario, come vediamo abbiamo Dracolado di Ra Guardate qui che confezione però che abbiamo Io ricordo che questa non l'ho mai aperta Cioè, questa è una ridizione, quindi abbiamo Leggente del Draco, abbiamo occhi blu, predoni metallici Sovrano della magia, servitore del faraone, crisi oscura e invasione del caos Io da piccolo, talmente che eravamo poveri, come la merda, non l'ho mai aperto Questa è una pura novità per me Ricordo che dentro abbiamo tutte e tre le divine agizie e più tre mostri più famosi E a randomico, cioè, a caso, potremmo trovare una Quarter century secret di Dracolado di Ra, Slater, Draco del Cielo Obelisk il Tormentatore, Draco bianco occhi blu, mago nero e Draco nero occhi rossi E appunto una quarter century di queste sei Allora, la scatola si presenta davvero, davvero bella, ragazzi Andiamo un po' ad aprire il tutto È un peccato davvero, perché è un pezzo davvero da collezione Penso che io comunque ne aprirò un altro Almeno un altro Non dico che vorrei, comunque, collezionarli tutti Perché, diciamo, ce ne vuole per riuscire a collezionarli tutti Quindi, penso che ne dovessi comprare almeno una decina E ricordo io questo, appunto, a GameStop Io l'ho comprato da GameStop e l'ho pagato, dico, 35 euro Quindi mi ha inculato un bel po' quel gran bastardo Ok, non ci dilunghiamo troppo Ok, andiamo un po' a vedere Questa è una prima esclusiva anche per me, eh, ragazzi Andiamo un po' a vedere Uh, la prima volta che ho questo box, ragazzi Sono veramente, veramente emozionato Non voglio spoilerarmi quello che trovo dietro Perché questo lo teniamo per ultimo Andiamo un po' a vedere In prima, in prima visione Vediamo subito obelischi il tormentatore Cioè, raga Che roba Io non ho mai aperto queste buste Penso che qui me le guarderò E me le derrò per un bel po' Porca di quella puttana Ok, abbiamo Predoni metallici Abbiamo sovrano della magia Servetore del faraone Crisi oscura Invasione del caos Leggenda del drago Mi ha occhi blu Ok, ovviamente il più atteso di tutti Ok, andiamo un po' Andiamo randomico Senza rilungarci troppo In chiacchiere Partiamo dal più Dall'unico che non verrà ristampato a luglio Ovvero Crisi oscura Vediamo un po' Cosa si riserverà Crisi oscura Allora ragazzi Io voglio aprirlo Ma voglio cercare Di non rompere la busta Perché ragazzi Questi veramente sono Sono dei cimeri da tenere E li voglio Bene conservare Non ricordo in Crisi oscura Cosa esce Perché non mi interessa Allora a me quello che mi interessa Viene dopo Ragazzi Non voglio aspettare troppo Spolerare Questo qui Mi interessa Allora Andiamo un po' A vedere Crisi oscura Cosa ci riserve Abbiamo Prova del fuoco Sul morale Ma Dio Carte proprio Davvero old school Che in due links Sono Sono le ultime carte Possibili e immaginabili Difensore incrollabile Arcidemone soldato La prima rara Interessante ragazzi Bella 1.9500 Bella Bella Abbiamo la prima rara Drago da un'altra dimensione Oh Abbiamo la prima Miss Prince Guardate qui Con un punto qui La carta di Kaiba Una super rara Ragazzi Ora ricordo che fanno Foil anche le stelle E l'attributo luce Attacca un'altra dimensione Andiamo un po' A vedere cosa fa Questa carta Non può essere distrutta Dall'effetto Di una carta Maggio Trappolo Che la nuova Disegna come Bersai Questa carta Non può essere distrutta Imbattata Mostro che ha Attacco 1.900 Inferiore Ok Questa è davvero bella Che Kaiba usa Se non sbaglio Nello scontro finale Contro Darts Nella serie di Oricalcos Vero davvero Cotezzo Fabro del ferro Ah Quindi il trick E le ultime tre carte Riposo eterno Definitivo Goblin ciecamente fedele E abbiamo Dark Scorpion Mainai La spina Ma mai raga Che 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 feels Davvero 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 Che Raga Queste sono Carte davvero Che ricordano La storia di Yu-Gi-Oh Guardate qui Questa è davvero Una godulia Ok Mettiamo Facciamo una cosa Le rare E le ultra rare E le super rare Da una parte Le comune Le togliamo Ok Crise oscura E' andato Raga Subito Io qui spero Di trovare Ginzo Ginzo Raga Che Penso Uno dei miei mostri Main boss Preferiti Della prima serie Insieme a Drago Tesconiero E se non sbaglio Esce anche qui O esce Abbandono Una cosa del genere Vediamo Un po' A vedere Eh Io Voglio Non voglio Romperli Perché Sono davvero E vabbè Andato Ragazzi Speriamo Di trovare Ginzo Ragazzi Se trovo Ginzo Penso che Metto a urlarmi Che Faccio un casino Ragazzi Ginzo E' una carta Davvero Davvero Ragazzi Troppo Troppo Importante Sono Sono ricordi Sono ricordi Davvero Ginzo Con Joy Che L'hauso Contro Maric Oppure Joy Che L'hauso Contro Extra Allora Abbiamo Dono Dell'Elfo Mistico Allora Dono Dell'Elfo Mistico Campione Delle Fiamme Chi è Non lo so Drago Di Fuoco Brifronte Mamma Mia Un Sei Stelle Che Stadio Proprio Old School Andiamo Vedere Lagami Gravitazionale La Prima Rara I Bossi Di Livello 4 O Superiore Non Possono Attaccare Ok Andiamo Un po' Vedere Mannaccia La Troia Combattente Delle Lame Dai Dai Non È Ginzo Però Ci avevo Sperato Però La carta Che Yugi Usa Contro Contro Kaiba Per Distruggerlo Con Fondendolo Con Mago Nero Con Paladino Oscuro È Sempre È Sempre Una Bella Codura Un'ultra Rara Combattente Delle Rame Ok Guadagna 500 Attacco Per Ogni Mostro Drago Contro Adatto Avversario Ok Nel Suo Cimitero Ok No Va Bene Così Anche se No Abbiamo Trovato Ginzo Tanto Penso Che Comprerò Altri Riproverò Azzardo Tigre Bianca Veggente Ispezione Un'altra Regolazione Della Tribù Ok Quindi Da come Vedo Sono Quattro Ok Abbiamo imparato Anche il Trick Ok Queste sono Tutte le Comuni Di finora Non male Non male Allora Ok Abbiamo Sovrano Della Magia Ok Artwork Davvero Ragazzi Questi sono Veramente La storia Di Yu-Gi-Oh Andiamo un po' A vedere Sovrano Della Magia Io Ricordo Queste sono Bustole Che non Ho mai Aperto Perché All'epoca Usavamo Le carte False Che compravamo Dai Marrocchini Sopra La spiaggia Oppure Le più Deboli Le stampavamo Le forti Da sopra Il computer Le assecquavamo Sulle più Debole Tipo Le divinità Egizie Le avevamo Stampate Altrimenti Ce le potevamo Sognare Che tempi Ragazzi Allora Allora Proviamo a fare Il trick Allora Quindi Uno Due Tre Le mettiamo davanti Ok Vediamo un po' Penso di averlo fatto Giusto Aspettate Sposto questi Ok Vediamo un po' Di concentrarci Su quello che Ci va Ragazza Arcire Mamma mia Che tempi Old school Brava Ghiojin Della Marea Ma che cazzo A 1650 Attacco 1350 Mai vista Sta carta 4 still Ricastro Goblin Mamma mia Cioè Carta usatissima Anche oggi Pesca una carta Poi il tuo versare Guadagna 1000 life points Questa Per il deck Exodia È davvero Davvero Tanta roba Kraken Di fuoco Con Ricastro Goblin Sono proprio contento Di averla trovata Orco Di pietra Ma che cazzo Questa mai vista Sta carta Ragazzi Mai Mai vista In vita mia Veramente Forse orco di pietra Numero 1 Penso Vediamo un po' Allora Allora Slot machine Bandit can Entra nella casa Ragazzi Ora penso Che dovrebbe arrivare La rara Oh Qui abbiamo Una carta Di bandit can Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Antico della foresta Quindi niente Uh Yosarrio Abbiamo la rara Bella Yosarrio Fa sempre la sua figura Mostro da Da 7 stelle Davvero Davvero forte Ok Con un artwork Raga Che è 2100 Attacco 2800 Difesa Comunque Dovevi tributare Due mostre Ok Passiamo Vediamo ora Catena di energia Quindi Niente Ok Ok Vabbè Con Yosarrio Abbiamo guadagnato Un bel po' Perché Raga L'artwork È quello che è Davvero Davvero Bello Per il tempo Un 7 stelle Dovevi pagare Due tributi Per un mostro Comunque lo mettevi in difesa Facevi la tua bella figura Però È L'artwork Che conta Ragazzi Quello che mi piace A me È che sono tenuto Davvero 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 Bene Ok Va bene Abbiamo trovato Yosarrio Cosa abbiamo Ora Allora Facciamo Invasione Del caos Ok Ci teniamo Legenda del Drago Monkey Blu E predoni Metallici Per l'ultimo Ok Invasione Del caos Possiamo trovare Mago Del caos Nero Drago Del Drago Tesco Nero E quindi Raga Queste sono Tanta Tanta Roba Vediamo Un po' Vediamo Un po' Andiamo Ad aprirla Uh L'ho già aperta Anche bene Senza perderci Troppe Inchiacchite Che Mi piace Che assaporate Anche voi Quali carte Io trovo Vediamo Vediamo Un po' Seme Primordiale Andiamo subito A vedere Le buste Ragazzi La sto cercando Di tenerle Bene Perché Sono Bei Ricordi Soprattutto Questa Però Penso Che ne Compro Sicuro Altre Due Allora Facciamo Una cosa Proviamo Un super Trick Così Ok Allora Vediamo Un po' Fenrir Ok Passiamo A presso Distorsione Dimensionale Mamma Che ricordi Che ricordi Ste carte Mamma mia Puoi attivare Questa carta Solo quando Non ci sono carte Nel tuo cimitero C'è uno Mostro Rimosso Dal gioco Evoca Tramite Equazione Che c'è stato Sul tuo terreno Mamma mia Cioè per i tempi Che non si capiva niente Cosa succedeva Le bandivamo Mandavano al cimitero Cioè a volte Le evocavi Senza tributi Era una cosa Ragazzi Ricordi Che Li mancano Probabilmente dentro Grusacra Che è un'altra comune Seme primordiale Ma chi è? Se c'è un glorioso Soldato nero Emissario all'inizio Drago Imperatore Il caso Emissario Sul terreno Scelgo Deve Le due carte Ebanie Aggiungi Entrambe La tua mano Mai sentita Sta carta Non la ricordavo Oppure La tenevo La tenevo Pezzotta La tenevo Falsa E non avevo mai capito Cosa faceva Tigre dell'anima Lucertola Mongolfiera Ma chi cazzo Se la ricorda Questa Non lo so Ok Iper Testa Martello Sembra che qui Ragà Non esce Proprio niente Abbiamo Iper Testa Martello Alla fine Del damage Step Se un mostro Avversario Che ha combattuto Con questa carta Non è stato Distrutto Ferdano Da quel mostro Avversario Nella mano Questa è Interessante Molto Yu-Gi-X Arara Matazza L'assassino Fulminio Bella Questa Questa davvero Bella Guerriero Effetto Questa carta Può effettuare Un secondo Attacco Durante ogni Battle Phase Il conto Di questa Carta Scoperta Non può Cambiare Bella Abbiamo La rara E Uccello Furtivo Quindi Niente Niente Da fare Allora Diciamo Che ora Finora La pullata Non è Proprio Delle migliori Però Vabbè Il meglio Ce lo siamo Il meglio Me lo so stipato Per ultimo Ce l'ho Per ultimo Allora Abbiamo Le carte promo Predoni metallici E leggenda del drago Bianchi blu Io direi di andare Con predoni metallici Ok Predoni metallici E ci teniamo Questi due Per ultimo Ok Ah Qui esce Drago Teschio Nero Qui possiamo Trocare Drago Teschio Nero Se non Sbaglio Se non Sbaglio Teschio Avocado Anche Che bello Teschio Avocado Se non Sbaglio Drago Nero Occhi Rossi Una cosa Del genere E Abbandono Sì Abbandono Possiamo Trovarlo Qui Ah Speriamo Un bel Un bel Drago Teschio Nero Ci farebbe proprio piacere Ok Allora Facciamo Proviamo Un trick Proviamo Ok Speriamo che ci porti bene Allora Abbiamo Koji Koji Lady Arpia Oh My Valentine Che bella porca Eh Bella ragazza Lucerto La Corazzata Mamma mia Che tempe Oh Gucci Onyevun Ok Acqua Effetto Questo mostro Può attaccare Attacca Il tuo avversario Non me lo ricordavo Sto effetto Attacco Caminari Mio padre Mio nonno Mio fratele Mio cugino Tutti quanti Attacco Caminari Mamma mia Tuono Fusione Occupi in più Megasfero del tuono Guardiano Delle paludi Joy Più Tristan Mamma mia Manca solo Guardiano Guardiano di lava Ok Ok Quindi dovrebbe esserci La rara Forse Uh Drago strisciante 1.6 1.4 1.5 stelle Questa la ricordavo Mamma mia Però Per i tempi di ora Sarebbe scarsissimo Oppure per allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Mamma mia Che merda E che cazzo è Volama Cioè che me ne ha già fatti Sta merda Allora Vediamo Insetto Effetto Fino a quando questa carta Resta coperta sul terreno Aumenta l'attacco di tutti i mostri vento Di 500 punti Mentre diminuisce l'attacco di tutti i mostri terra Di 400 punti Attacco 600 700 difesa Minchia Che merda Vediamo un po' Dai 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 Una bella ultra rara Demone selvaggio Ma che cazzo di merda Ma che schifezza Mamma mia Che pullata di merda Verrà Mamma mia Ragiusci testa Sono delle gente Da come occhi blu Dai dai Queste sono tutte le comuni Ok Che merdata Proviamo un po' La busta più ambita Che una sola Ricordo che una sola Di questa costa Se non sbaglio La trovo via Sui 500 euro Ovviamente Della vecchia Non la 25esimo anniversario E io vi ricordo Ragazzi Che a luglio Ristamperanno Tutte le buste Leggende del Dragon Ball Con occhi blu Predoni metallici Invasione del caos Sovrano della magia E il seminatore Il faraone Tranne crisi oscura Che talmente Che una merda Che non l'hanno Sarà l'unico Che non sarà Ristampato Ok Che alla fine Ci trovi solo Exodia Negros Ma poi Davvero Poco Poca roba Vediamo questa Ragazzi Sono emozionatissimo Perché questa Non l'ho mai Mai aperta In vita mia Perché non ci stavano Manca i soldi Per Per farti le carte false Un altro po' Sicurati Raggiende del Dragon Ball Ok Vediamo un po' Dai dai Speriamo Qui possiamo trovare Ravagliuri tutto Mago Nero Dragon Ball Bianco Occhi Blu Exodia Raigeki Mamma mia Cioè A me non Cru Raigeki Mi andrebbe bene Dai Speriamo di trovare Qualche super Mega foil Impotente Vedo già Un spirito Inotama Mamma mia Dai dai Però speriamo Che non sia Sul spirito Inotama Allora Vediamo Libro delle arti Segrete Carta magia Queavaggiamente Un mostro tipo Incantatore Queavaggiano Questa carta Mentre proprio Attacca Death di 300 punti Ok Rimuovi trappola Maric Ragazzi Carta magia Distruggi la carta trappola Scoperta sul terreno Che per l'allora Era davvero importante Kumotoko Madonna che merda Spirito inotama Nemuriko Madonna che merda Lucerto l'affamata Ora dovrebbe arrivare Forse qualcosa di interessante Andiamo un po' a vedere Andiamo un po' a vedere Madonna Proprio interessantissima Energia Oscura Carta magia Equavaggiamento Un mostro tipo Demone Equavaggiato In questa carta Mentre proprio Attacca Death di 300 punti Andiamo Vediamo Vediamo Un po' Oh Carta rara Anfora dell'avidità Pesca due carte Questa Già ci siamo Dai Dai Vi ho indicato La ridente Anfora dell'avidità Bellissimo Dai Dai Una rara Vediamo Ragazzi L'ultima carta Cosa ci riserva Vediamo Un po' Vediamo Marona Armatura Vivente Madonna Che merda Ragazzi Alla fine abbiamo trovato Il mio primo La prima volta che apro Leggenda del drago Bianco Occhi blu Trovo Anfora dell'avidità Rara Ok Yeah Alto livello Vediamo un po' Vediamo un po' Ok ragazzi Ora ci resta solo Da aprire L'ultimo Ragazzone Ragazzi Le carte promo Vediamo Cosa Cosa abbiamo Di bello Non spoileriamoci L'ultimo Non me la voglio spoilerare L'ultimo Non mi interessa Va' Essere Una bella Sorpresa Ok Vediamo Vediamo un po' Madonna mia Anche se Già sembra che Ho capito qualcosa Ok ragazzi Ok ragazzi In tutta la sua bellezza Obelisk Il tormentatore Ieri ho visto la battle of gods Tra Yugi e Seto Obelisk contro Slifer Vediamo Obelisk Ultra rare In tutto il suo splendore Mamma mia Slifer Il drago del cielo Vieni a me Mamma mia Ragazzi Questa Guardate qua Una bellezza Davvero 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 Splendente Dragolato Tirà Mamma mia Ragazzi Non vedo l'ora di vedere Lo scontro tra Yugi e Marik Solo per rivederla Guardate qua Dragolato Tirà Fa sempre la sua figura Ok Vediamo un po' Mettiamole tutte e tre Vicina Che Che leggenda Che è questo box Ragazzi Guardate qua Mamma mia Tutte e tre Ultra rare Non mi interessa Ma queste sono da Da collezione Proprio ragazzi E' una cosa incredibile Sono ultra rare Bellissime comunque Ok Passiamo appresso Vediamo un po' Cosa abbiamo qui Drago bianco Occhi blu Bellissima Ragazzi Come sempre Anche se non è l'artwork Mia preferita Mago nero Abbiamo Mago nero E Drago nero Occhi rossi Ragazzi Questa si Che è l'artwork Mia preferita Bellissima Ragazzi Dragone rocchi rossi In questa veste E' bellissima Vediamo L'ultima carta Del set Vediamo Vediamo un po' Vediamo un po' Mamma mia Dragolato Di la quarter Century secret Mamma mia Che splendore Ragazzi Guardate qui 25esimo Anniversario Bella dai Vado la penne Solo per questo Dai Vediamo un po' Davvero Davvero Splendida Ok Ragazzi Mettiamole tutte qui Il set Completo Vediamole un poco Ecco Con Il drago A comandare Andiamo a comandare Pò Pò Questo veramente La comanda Ragazzi Ok Vediamo un poco A me Io sono soddisfatto Anche se nelle buste Ragà Vedendo altri video Ragà Veramente il pool radio Davvero Davvero Basso Veramente Konami Veramente ci vuole mangiare Troppo sopra Perché L'unica cosa Che sono rimasto Insoddisfatto È che veramente Ragazzi Di Di carte importanti Ne escono Davvero 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 Poca Perché Se non fosse Per le promo Il resto Non è che ti rimane Chissà che Questo è il resto Che abbiamo trovato Tra rare Super rare Ultra rare Abbiamo trovato Un'anfora Dell'avidità Un volama Matasa L'assassino Fulminio Iozzarri Uraro Combattente L'arma Ultra raro Di questo sono soddisfatto Ok Però comunque Ragà È poco Diciamo Legame Gravitazionale Raro Un arcidemone Soldato Raro E drago Da un'altra dimensione Super raro Però Comunque Nelle buste Davvero Esce poco Ok Questo È il bottino Delle promo Va benissimo Così Per questo Va bene così Ok ragazzi Io vi invito A lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Commentate Ditemi cosa ne pensate Se anche voi L'avete acquistato Se anche voi L'ha fatto bestemmiare O non siete contenti Noi ci vediamo qui A un prossimo E ci siamo Ciao Ciao